Salve a tutti da Gera Mani in Pasta, ritorniamo in Puglia e quindi oggi polpo in umido con patate alla pugliese, guardate che meravigliosi ingredienti. Qui abbiamo un chilo di polpo, allora il polpo io l'ho lavato, ho tolto l'interiore come potete vedere, girando la testa, si tolgono tutte le interiore e poi rigiriamo nuovamente la testa, gli occhi come potete vedere che non ci sono più, è stato ben lavato. Allora un consiglio, quando comprate il polpo vi consiglio di tenerlo almeno due giorni in congelatore, questo farà sì di consentire una cottura bella, morbida, si scioglierà in bocca, ve lo garantisco. Poi, 800 grammi di patate come potete vedere sono già nell'acqua perché poi le ho lavate, pelate e tagliate a pezzettoni, i pezzettoni mi raccomando devono essere così grandi perché alla cottura faranno una bella figura insieme al polpo che verrà tagliato a pezzetti a vostro gusto, magari con la stessa misura. E si vedrà, cioè si deve vedere la bellezza del piatto, se si scioglie la patata non si vede più. Buono, qui abbiamo 4-5 pomodori di quelli, questi sono i pugliesi, però voi potete mettere quelli che volete e li ho tagliati a spicchi. Uno scalogno affettato, due foglie di alloro, peperoncino a pezzettini, facoltativo ma potete mettere anche del pepe nero, poi prezzemolo e basilico che andremo a tritare dopo, un bicchiere di vino bianco e olio d'oliva. Detto questo, andiamo sulla nostra cucina. Come vedete io sto usando una pentola in terracotta, ma voi potete mettere la pentola che volete. Allora, diamo una bella erorata d'olio d'oliva e andiamo a mettere il nostro polpo, proprio intero, io lo andrò a tagliare dopo, però se voi volete lo potete anche tagliare a pezzetti, io preferisco così. Lo vado a chiudere con coperchio e andiamo a rosolare. Guardate che meraviglia! E ora andiamo a sfumare col vino bianco. Guardate che bello! Allora, a questo punto andiamo a mettere le foglie di alloro, come potete vedere, guardate, il polpo. Allora, vi dico un aneddoto. A Bari si dice che il polpo si cuoce con l'acqua sua stessa. Mi raccomando, non aggiungete acqua, adesso la cottura verrà fatta così, a temperatura, a fiamma bassa bassa e andiamo a cuocere senza aggiungere acqua. E neanche sale, perché a Bari si dice nuovamente che non si cuoce il polpo, se no mettiamo adesso il sale, diventa duro. Ora mettiamo i pomodorini. Guardate che meraviglia con questi colori. E ora mettiamo lo scalogno. Quindi andiamo a cuocere a fiamma bassa. Andiamo a rigirare un attimo, in questo modo. Chiudiamo il coperchio e ci vediamo tra mezz'ora. Dopo 30 minuti andiamo a mettere le patate. Diamo una leggera mescolata e andiamo a cuocere per altri 30 minuti. Sempre a fiamma moderata e con coperchio chiuso. A fine cottura guardate qua, senza alcun bisogno di acqua. Si è cotto lentamente nel migliore dei modi. Allora io l'ho assaggiato e io sale non ne metto perché va benissimo così. Voi assaggiate di sale. Andiamo a mettere il peperoncino, il prezzemolo col basilico tritato, diamo una leggera mossa e andiamo a chiudere con coperchio, due o tre minuti altri e poi spegniamo. Ok, possiamo anche spegnere. Chiudiamo con coperchio e noi ci vediamo all'assaggio. Sono pronta per questo meraviglioso assaggio. Guardate, colori e sapori in un piatto pugliese. Vado. Guardate. La cottura è spettacolare. E come avete visto la patata rimane integra ma cotta all'interno. Madonna, mi ha messo in bocca. Guardate qua la patata. Guardate. Guardate. Vedete come si è cotta. Che spettacolo. Il mio peperoncino amato. Vedete, l'ho messo anche qua, pezzettini. Oltre alla cottura. E poi, se avete notato, su questo bel piatto c'è una delle fettine di pane tostato. L'abbiamo tostato nel tostapenne ma si può tostare anche nel forno. Non so se rendo l'idea con questo assaggio. Io vi saluto. Ciao a tutti di buone. E teniamo l'impasto.